Per me camminare è quotidianità ormai, è una scelta che è sostanzialmente il mio modo di spostarmi, il mio modo di spostarmi sicuramente in città, tra l'altro una fortuna, vivendo a Roma comunque è la bellezza di poter vivere la capitale in un'ottica che non è quella che offre già l'autobus o comunque la macchina, è il modo di scoprire veicoli, nuove prospettive e angolature d'osservazione che fanno scoprire comunque anche realtà probabilmente che molti di noi ignorano. Camminare oltre ad essere un fatto naturale diventa anche un atto di responsabilità verso se stessi e verso l'ambiente, sicuramente il modo migliore per evitare emissioni, il modo più sostenibile per spostarsi da un punto all'altro. È un atto di responsabilità perché soprattutto in questo momento che viviamo una crisi economica e finanziaria a livello globale, probabilmente riscoprire il camminare come alternativa a altri mezzi di spostamento è probabilmente la scelta più coerente, la scelta più giusta. Ma è una bellissima iniziativa che sicuramente ha già registrato un'attenzione straordinaria e aumenterà sicuramente il consenso perché è un atto di estrema semplicità, un atto di estrema semplicità che in modo diretto arriva a chiunque e che sicuramente potrà vedere la partecipazione di chiunque abbia la voglia di mettersi in gioco. Se vogliamo il cambiamento, il primo cambiamento dobbiamo metterlo in atto da noi e forse se ci incominciamo a camminare su, è un primo passo.